L'attività fisica che, chiaramente, siamo agli inizi d'ottobre, ormai molti avranno ricominciato dopo magari la pausa estiva. Spesso si fa così, no? Con l'arrivo della stagione autunnale e invernale si torna magari a fare attività fisica, sport, palestra. A tutte le età si può fare diversi tipi di sport? Lo chiediamo a un esperto, Vincenzo Manco, presidente della WISP, un'unità italiana sport per tutti. Benvenuto ancora una volta. Grazie a voi. Allora, Vincenzo, io innanzitutto direi, si può fare attività fisica, come accennavo, a tutte le età? Ci sono controindicazioni? Cosa si può dire in generale? Si può dire che l'innalzamento delle aspettative di vita a cui ormai ci stiamo abituando permettono di poter sostenere che l'attività fisica può essere fatta a qualunque età. Esistono ormai situazioni in cui addirittura dal punto di vista delle discipline sportive troviamo anche a volte l'ottantenne running, per esempio, o i bambini che in piscina insieme ai propri genitori, il papà e la mamma, cominciano a fare acquaticità. Quindi sicuramente possiamo sostenere che si possa fare. Un ventaglio è ampissimo, sicuramente. Partiamo dai, chiamo io diversamente giovani, l'età più avanzata. Cosa si può fare? Quali sono i consigli che possiamo dare a chi ha passato la mezza età e vuole continuare a fare attività fisica in maniera anche sana, ovviamente? Beh, intanto è sicuramente un'attività di mantenimento. Ognuno di noi, spesso e volentieri, nella propria vita, a seconda delle condizioni sociali e quant'altro, economiche a volte, impatta con un'attività sportiva, con un'attività fisica. Questo sicuramente ci permette di poter continuare, laddove le condizioni appunto ancora ci siano, con un'attività di mantenimento. Per le persone diversamente giovani, come lei le ha giustamente definite, quindi per la cosiddetta grande età, esistono sicuramente possibilità di interventi, di attività motoria dolce, che non impatta molto sugli elementi. Mantengono l'attività fisica e la tonicità muscolare, per esempio, senza andare a impattare su quello che è la salute, chiaramente. Esattamente, sempre nel rispetto del proprio corpo. Ci sono momenti, in tutte le età in generale, più adatti per praticare lo sport in generale, partendo magari appunto dalla mezza età, per poi scendere eventualmente. Sì, è evidente che questo è molto legato al tipo di disciplina o al tipo di attività motoria o sportiva che noi facciamo. Se legato sicuramente ad una prestazione, direi di sì. Se il raggiungimento della prestazione richiede applicazione, allenamento, tecnica e quindi anche gesti atletici. Non solo momenti della giornata, probabilmente anche più assiduità. Esatto, quindi un allenamento, diciamo un'attività costante che richiede necessariamente quello per poter raggiungere l'obiettivo, il risultato e la prestazione. Altrimenti, come dire, si può tranquillamente immaginare. Terrei come riferimento, ecco se questo può servire per i diversamente giovani, il riferimento dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice 150 minuti settimanali, minimo per poter garantirsi benessere. Meglio mattino, meglio la sera, meglio pomeriggio, ci sono degli orari della giornata. Diciamo che su questo bisogna stare attenti se le attività sono all'aperto ad evitare chiaramente un impatto con le condizioni meteorologiche, ma ormai anche, diciamo, questo è abbastanza dato dal punto di vista della conoscenza, diciamo, delle persone, quindi del rispetto del proprio corpo. L'altro tema è, invece, quando l'attività si svolge al chiuso, avere degli operatori qualificati, come WISP, noi per esempio organizziamo ginnastica a domicilio e attività fisica adattata, che è fatta proprio, diciamo, una dimensione dedicata alla persona con le sue criticità e potenzialità. E per i propri figli, per i bambini, che tipo di sport è meglio scegliere? Come facciamo a scegliere uno sport indicato, eventualmente? Guardi, su questo, diciamo, io e come WISP abbiamo, come dire, un impatto culturale rispetto a quello che è la pratica sportiva. Noi preferiamo parlare di multidisciplinarietà. E bisogna assecondare quelli che sono, diciamo, gli interessi, i desideri e anche il piacere dei nostri figli di impattare in un'età chiaramente molto piccola con quello che è soprattutto il gioco e il divertimento. Deve esserci la parte ludica, no? Esatto. In questo modo si rischia anche di, come dire, di non partecipare in età avanzata ognuno di noi ai cosiddetti convegni che ci fanno parlare, per esempio, di abbandono della pratica che nel nostro paese ha una fascia di età ormai costante da 30 anni a questa parte, cioè 13, 14, 18, 19 anni. E non si muove. Quindi lì non ci si scambia. Quindi la multidisciplinarietà permette, diciamo, alla fine anche al bambino di scegliere quello che è lo sport, diciamo, che preferisce. Se riguardo la frequenza dell'attività fisica nel caso dei più piccoli si rischia eventualmente... ci sono casi in cui si rischia di farne troppa? Perché a volte la percezione è quella che questi ragazzi un po' giocando, un po' magari facendo attività fisica, si muovono anche troppo a volte. Ma è così o invece va bene a quell'età? No, io penso che questo problema, diciamo, non ci sia. Perché ognuno di noi, soprattutto a quell'età, trova la dimensione banalmente anche della stanchezza. Spesso e volentieri, ripeto, questo impatta un po' con la cultura magari anche di noi genitori, che vogliamo vedere il bambino o proiettiamo quella che può essere anche una nostra frustrazione verso i nostri figli e i nostri bambini, o un nostro desiderio, non necessariamente una frustrazione. però io direi che, come dire, non corriamo il rischio di un eccesso di sportività o di un eccesso di attività motoria. Tra l'altro proprio con i bimbi, con le famiglie, avete fatto recentemente un organizzato a Orvieto, in Umbria, un'attività che riguardava proprio anche il fatto di praticare sport in famiglia, all'aria aperta. Per esempio in inverno praticare sport all'aria aperta è controindicato. Cosa possiamo dire da questo punto di vista? No, neanche lì vedrei una controindicazione. È evidente che è necessario conoscere bene il proprio corpo, le proprie potenzialità, l'impatto, come dicevo, con le condizioni meteorologiche, ma io credo che, come dire, una sana attività fisica nel rispetto del proprio corpo possa essere, diciamo, svolta in qualunque condizione. A Orvieto noi abbiamo vissuto una situazione particolare, abbiamo voluto focalizzare nel nostro festival il gioco e le tradizioni, e abbiamo voluto focalizzare questo tema degli games. Esatto, sui videogames, perché il Comitato Olimpico Internazionale sta provvedendo, forse, a riconoscere questa disciplina nel programma olimpico, abbiamo semplicemente fatto una valutazione, come dire, una discussione, un confronto. No alla criminalizzazione, sì a coniugare i videogiochi con quello che è l'attività fisica, l'occupazione delle piazze, la socialità, l'aggregazione, quindi riuscire a conciliare insieme le cose. e perché no, vivendolo anche, coinvolgendo anche la famiglia. Molto interessante, molto interessante. Grazie a Vincenzo Manco, presidente della WISP, Unione Italiana di Sport per tutti. Grazie a voi.